Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ave Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli, accendi in esso il fuoco del tuo amore. Ma qual'altra Madonna di Boschi prega per noi. Carissimi, perché la Santa Comunione apporta in noi i suoi frutti salutari? Abbiamo visto nelle passate istruzioni che non basta comunicarsi, ma che bisogna comunicarsi bene, cioè con le dovute disposizioni. E queste disposizioni ne abbiamo pure esposte e spiegate perché ciascuno, conoscendole, possa tenere il giusto conto e usarne secondo il proprio bisogno e la propria capacità. Però, se vogliamo sperimentare davvero l'efficacia della Santa Comunione, ricordiamoci un'altra cosa, che non basta comunicarsi di rado, ma che bisogna comunicarsi spesso. Allora parleremo oggi della Comunione frequente. La Santissima Eucaristia è il nostro cibo spirituale, fatto cioè per sostentare a crescere la vita in anima nostra, abbiamo già parlato. Ora, come il cibo materiale bisogna prenderlo spesso, ogni giorno, se non si vuole che la vita del corpo leperisca, finisca l'esaurimento totale dell'organismo, così la Santissima Eucaristia bisogna riceverla spesso, il più spesso che si può, magari ogni giorno potendo, se non vogliamo che la vita della nostra anima si esaurisca lentamente, finisca poi con rischiare del perdersi. E oggi vedremo, appunto, ora la comunione frequente, comunione quotidiana. Un argomento importantissimo, perché quanti pregiudizi passano per la testa dei cristiani, specialmente degli uomini, maschietti in questo caso, che anche se buoni, insomma, accettano tutto, per quasi di tutto, non si può che con grande difficoltà fare un tale persuasione che si possa e deve comunicarsi frequentemente. Messa domenica va bene, preghiamo mattina e sera va bene, catechismo va bene, andiamo in pellegrinaggio va bene, eccetera, permessa quotidiana, insomma, adesso non esageriamo, insomma, sì, per carità vai pure, mica ti, mica ti propisco di andare, anzi, però, insomma, penso che è sufficiente la domenica, no? I maschietti ragionano più così di femminucce, ecco, sono più brave. Rivedremo i motivi su cui si fonda la comunione frequente, difficoltà che si muovono alla sua pratica. Due motivi principalmente ci devono condurre alla pratica e alla comunione frequente. Il desiderio di Gesù Cristo è il nostro bisogno. Che Gesù Cristo, prima di tutto, ne istituire questo sacramento, ha mai manifestato il desiderio vivissimo che i fedeli vi si accostassero spesso, lo disolviamo facilmente dal modo con cui lo istituì e le termine che usò. Parlando di esso, di fatti gli ci donò questo sacramento in forma di cibo, lo istituì a maniera di refezione, per significarci che questo era un cibo che dobbiamo usare, non qualche era la volta, in qualche circostanza particolare, ma spesso, come i cibili materiali che da noi si prendono ogni giorno. Come dire, mangiamo solo la domenica, ora è discorso, no? Di prima, no? Mangiamo solo la domenica, altri giorni, mica ci sanno mangiare ogni giorno, no? Chiaro che si fa un discorso così, ma che stai dicendo? Bisogna mangiare per sostentarsi. Lo stesso analogamente parlando, spiritualmente parlando, con la Santa Eucharistia per l'anima. Siccome non ogni cibo per riguardo alla vita naturale, comune e portata di tutti, che cosa ha fatto? Ha scelto il Maestro quel cibo di cui non si può far senza, che ha portato indistintamente di tutti, ricchi e poveri, grandi e piccoli. Cioè quel pane quotidiano in cui domandiamo al Signore, il Padre nostro, che è il primo sostentamento della vita. C'è un pezzo di pane, in teoria, non mancare a nessuno. Se gli si fosse accontentato di essere ricevuto una qualche rara volta e non più, lo avrebbe istituito l'Eucharistia sotto forma di cibo e di bevanda, creando così una eloquentissima analogia tra i bisogni del corpo e quelli dell'anima. Se non volesse che fosse solo qualche rara volta, ce l'avrebbe fatto così. avrebbe scelto una materia così usuale e ordinaria come il pane e il vino ed avrebbe poi dato l'autorità di consacrare il suo corpo non già solo a Romano Pontefice e a Vesco ma a tutti distintamente i sacerdoti e a ogni giorno e se ne starebbe chiuso nel tabernacolo tutti i giorni dell'anno. No. Livi Redentore dovrebbe avere in mente ben altro. Se gli si sacrifica sui nostri altari ogni giorno il suo desiderio dovrebbe essere quello che si partecipasse ogni giorno al suo sacrificio. Poi le espressioni da lui usate parlando dell'Eucharistia non potrebbero essere né più premorose né più forti. Eccole. Io ho desiderato ardentemente di mangiare con voi questa Pasqua. La mia carne è veramente un cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Colui che mangia la mia carne avrà la vita in sé. In verità vi dico se non mangerete la carne del figlio dell'uomo non berrete il suo sangue non avrete in voi la vita. Cioè sono parole e si vede chiaro Gesù non solo desiderio che diciamo nella comunione ma c'è un impone diciamo sotto minaccia della morte eterna dell'anima nostra. Una mani dice al suo bambino o succhi questo latte morerai poveretto se non ti nutri. A un malato il medico dice buon uomo prendi questa medicina o muori. Una persona sfinta per la fame diciamo mangia subito altrimenti morerai devi mangiare devi tirarti su. Gesù Cristo dice esplicitamente se non ti comunichi morerai spiritualmente parlando. Lui stesso quindi ha fatto questione di vita o di morte che vuol dire che la sua intenzione di istituire il divino sacramento era quella che noi ci accostassimo di frequente ricevono nel sacro altare. L'altro motivo che abbiamo di comunicarci frequentemente è basato sulla virtù grandissima di questo sacramento e sul nostro bisogno. Difatti in qualunque stato d'anima ci troviamo il bisogno della comunione potrebbe essere per noi più grande poiché o siamo penitenti e per uscire dallo stato di colpa e allora abbiamo bisogno di essere valorati a vincere e superare le nostre cattive abitudini e durare nella grazia ricevuta o siamo tiepidi rimessi langui nel servizio di Dio e abbiamo bisogno di scuoterci e infervorarci o siamo buoni solleci e fervorosi e allora abbiamo bisogno di perseverare anzi di avanzare sempre più nel bene perché si sa che in queste cose non andare avanti è già un tornare indietro chi non progredisce regredisce dicevano i padri e il deserto ma dove troveremo queste grazie di sostegno di difesa di eccitamento e fervore di stabilità e perseveranza se non il sacramento e l'eucaristia che è istituita appositamente per questo e siccome un rimedio qualunque produce il suo effetto in proporzione sempre all'uso che se ne fa come potremo ottenere dalla comunione un vantaggio corrispondente al nostro bisogno se ci accontentiamo di riceverla solo qualche rara volta vediamo in pratica perché tanti cristiani che pure dicono un po' di orazioni mattina o la sera ascoltano la messa sono poi così languide nella fede scostumati bestemmiatori superbi collerici vendicativi eccetera sono tali perché non frequentano la santa comunione l'anno scorso c'era un certo digiunatore Succi abbastanza famoso che si vantava poter digiunare anche per 40 giorni di seguito vuole affare lui come Gesù evidentemente una volta ne fece la prova e vi riuscì anche ma dopo aveva uno scheletro ed era debole come una canna incapace di muoversi ebbene molti cristiani imitano costui e sono i pasqualini e o i natalini che si contentano una sola comunione al massimo due anni i pasqualini per certo comunicassero una volta l'anno normalmente si fa natale e pasqua ci si confessa natale e pasqua e si comunica natale e pasqua quindi costoro vivacchiano gli uomini soprattutto come diciamo prima sono per lo più costoro vivacchiano stentano a tirare innanzi la vita cristiana sono i deboli i nemici i tisici delle nostre parocchie sempre spiritualmente parlando quindi basta una piccola occasione un piccolo urlo urto per farli cadere per far dimenticare addirittura talvolta di essere persino cristiani le difficoltà molte sono difficoltà oscure che si recono in campo contro la pratica della comunione frequente vediamone alcune ora la prima si disume sempre dal precedo della chiesa che comanda di comunicarsi una volta all'anno se la chiesa si è contenta dicono alcuni ci comunichiamo una volta all'anno perché nasci spesso alla fine siamo comunicati a Pasqua ma è fatto il nostro dovere timbrato cartellino siamo a posto questa obiezione si risponde facilmente che è falso che la chiede sia contenta di una sola comunione all'anno e la ci comanda della comunione Pasquale come il minimo che si possa esistere a noi ma non ciò ciò non vuol dire che se ne è accontenti ce lo fa capire con quella parola almeno che ha messo nel suo precetto la quale vuol dire piuttosto che mai sarà meno male comunicarsi una volta piuttosto di niente ma è piuttosto si dice no difatti quando la chiede stabilì questo procedo alla comunione Pasquale i cristiani erano talmente trascurati che passavano tutta la vita senza mai confessarsene comunicarsi aspettavano a confessarsi comunicarsi di un punto di morte allora essa la chiesa madre onde impedire che marcissero disordine si perdessero i buoni in generale impose loro sotto pena di peccato mortale di essere privati dopo la morte e sfotture ecclesiastiche di confessarsi e comunicarsi almeno nel tempo pasquale la chiesa fece precisamente come una buona madre la quale potendo indurre il suo bambino inferma e aiutare la medicina chi potrebbe guarirlo lo sforza a berne almeno un cucchiaio vabbè prendere un pochino solo anche se amare almeno un pochino una volta per favore ecco del resto l'intenzione e desiderio della chiesa sarebbe che i fedeli si comunicassero tutti i giorni tanto è vero che sono pontevice più decimo ma non decreti speciali tale scopo togliendo pregiudizi accordando indulgenze situendo funzioni apposite allargando facilitando tale pratica altri dicono come frequentare la comunione noi composti di miseria inclinati al mal noi che cadiamo in peccato tutti i giorni siamo indegni offenderemo Dio faremo di sacri leggi altra questione totalmente diversa chi mi dice non c'è bisogno faccio il minimo di spendere adesso invece io lo farei anche ma mi sento indegno come farla spesso a quest'altra difficoltà che tutta l'apparenza di voler salvare dignità del sacramento rispondiamo subito è vero che lui sia un miserabile creatore indegno di accostarci ricevere il Dio della purezza e la santità chi può dire di essere degno ma è questo motivo per tenercene lontani se quando andiamo alla comunione si esigessero una santità una perfezione pari alla grandezza del sacramento ora saremo sempre indegni di riceverlo ne saremo indegni anche gli angeli del cielo oppure la Vergine Santissima Immacolata per chi vi siamo a distanza infinita tra noi e Dio tra la creatura e il creatore se fosse per quello ma non è una disposizione adeguata al sacramento che si esige da noi ma è una disposizione corrispondente al nostro stato alle nostre forze la chiesa insegna che per il cielo a comunione bastano due cose lo stato di grazia e la retta intenzione abbiamo detto poi il digiuno però di corretta intenzione specifica del credo sacro ringrazione de quotidiana santissima carestie supzione consiste in questo che si faccia la comunione non per usanza o per vanità o per altri motivi umani ma per corrispondere al desiderio di Gesù Cristo per esseri uniti nella carità e per giovarsi di questo divino rimedio per il proprio perfezionamento spirituale disposizione del desiderio a meno di farla bene di ricevere i frutti che il Signore ci dona con infinito amore quindi poi col digiuno caristico pratica esterna soprattutto abbiamo visto la grazia di Dio quella necessaria io posso accostarmi alla santa comunione e non sono queste disposizioni facili comuni da portare tutti i cristiani basta che lo vogliono sì ma dunque si può andare alla comunione anche i peccati e vignare in anima e senza confessarsi sì quantunque sia desiderabile che chi si accosta frequentemente alla comunione sia puro anche da peccati vignani specialmente da quelli pienamente deliberati e si spoi dell'affetto ai medesimi tuttavia se non lo è non è probito di accostarsi anche quotidianamente infatti la chiesa mette anche il confito all'inizio della messa apposta non confesso il potente o il fratellino poi la soluzione è sacerdote quindi già all'inizio c'è la soluzione dei peccati vignani la chieda sacriviamo tutti i peccatori e pecchiamo giusto pecca sette volte al giorno prima la santa messa c'è il confito che dà la soluzione dei peccati vignani questa è la dottrina della chiesa d'altronde la materia necessaria per la confessione abbiamo visto parlato del sacramento sono soltanto i peccati mortali i vignani si possono rimettere anche con altri mezzi per esempio con un atto di pentimento con la croce con l'acqua benedetta con l'ascoltare devotamente la santa messa eccetera anzi la comunione stessa ha abitudini cancellali direttamente purché si intende c'è il dolore a proposito cioè io sono pentito delle mie miserie eccetera eccetera la confessione già la comunione mi toglie mi assome dei peccati mi toglie i peccati vignani la comunione ben fatta quindi non è necessaria la confessione ogni volta che si va a comunicarsi è necessaria solamente quando si avesse nell'anima qualche colpa grave perché questa solo costituisce l'impedimento della comunione anzi secondo il codice tutti i cristiani che sono soliti accostarsi la comunione scusate accostarsi la confessione almeno due volte al mese ogni 15 giorni possono lucrare tutte le indulgenze che richiedessero la confessione eccetera l'indulgenza e il giubilei ordinario straordinario quindi tutte le indulgenze che posso prendere c'è allora la confessione sacramentale si dice la comunione la confessione scusate la comunione poi l'opera indulgenziata che sia una visita al cimitero che sia la preghiera al santo secondazione del santo padre un padre un credo e dopo un ave un gloria insomma e distacco dai almeno affettivi dei peccati vignani questo è prescritto sempre perché si abbia esposto l'indulgenza plenaria ora la confessione se è meglio entro gli otto giorni o quando si fa per quello ma chi si confessa regolarmente due volte al mese ogni 15 giorni può fare può lucrare tutte le indulgenze che vuole perché questa regolarità quindi due volte al mese ogni 15 giorni è sufficiente per la chiesa per lucrare le indulgenze visto che c'è questa regolarità c'è questa buona a disposizione quindi tutte le indulgenze che voglio facendo questa regolarità di confessione va bene invece chi fa solo confessione una volta al mese prima vera di primo sabato eccetera per l'indulgenza voglio stare dentro agli 8-10 giorni massimo 15 ecco no per dire via dunque questo pregiudizio di non essere mai degni accostarsi a Gesù Cristo via questo timore geserati per fare la santità del sacramento pensiamo invece che la comunione non è un premio alla santità ma un mezzo per acquistarla che le nostre miserie e debolezze ordinarie sono anzi un motivo in più per accostarvesi spesso perché come dice San Francesco di Sale non sono i sani che hanno bisogno del medico ma gli ammalati diceva Gesù ripeteva San Francesco di Sale non sono i forti che hanno bisogno di sostegno ma i deboli proprio contrario questa è una tentazione del diavolo tanti anni fa l'eucaristia e il diavolo non te la vuoi far farla perché si sa che ogni comunione sono delle grazie specifiche di quella comunione quindi ogni occasione è buona per non farla e viene da sotto tuttavia ad alcuni si insiste come frequentare la comunione se vediamo di non cavarne alcun profitto se vediamo di essere sempre gli stessi con le stesse miserie imperfezioni mi comunico tanto vedo che non cavo niente che mi servono per rispetto al Signore non mi comunico neanche perché vedo mi sembra di essere ipocrita uno dice così sentite se fosse anche vero che siamo sempre gli stessi possiamo proprio affermare che la comunione ben fatta non ci ha mai portato con il vantaggio il solo andare esente in via ordinaria da gradi caduti in mezzo a tanti pericoli il solo non essere diventati peggiori è già un grandissimo vantaggio che essa ci apporta pensiamo un poco se accostandosi con una certa frequenza di sacramenti siamo rimasti sempre gli stessi cosa sarebbe venuto di noi se ne fossimo vissuti lontani se mi hai mai pensato a questo però vero allora non siamo almeno peggiorati per poco e poi si sa bene che la comunione produce i suoi effetti un po' alla volta grado a grado quasi sensibilmente si cresce in grazia diciamo un santo come si cresce in grandezza la stessa maniera che il fanciullo diventa ogni giorno più grande di cielo senza che se ne accorga perché chi magari lo vedo dopo un anno come è cresciuto ma che è stato due giorni in casa magari vede meno la crista no? così il cristiano frequentando la comunione crescerà senza vede essere in bontà e grazia davanti a Dio d'altronde chi ha mai preteso che la comunione ci renda affatto impeccabili scritta nessuna parte sempre comunicando ci aspettiamo questo quando è che potremo riceverla ma dice ancora qualcuno non ci trovo nessun gusto mi sento freddo arido con poca devozione e temo di fare dei sacrilegi non sento niente no? sbagliato anche questo intanto sappiate che non si commette mai sacrilegio quando si ha paura di incorrere e si fa di tutto per non incorrerlo e poi è proprio necessario che il fervore la devozione sia una cosa sensibile niente affatto vi è molta differenza tra la devozione e il sentimento di essa si può averne molta sebbene non si senta il sentire a molte volte non dipende da noi bisogna dunque emigliarsi quando non si ha dice Tommaso da Kempis ma non ritirarsi quindi mi omiglio perché non ho devozione eccetera insomma che sono a merito da parte di però non mi ritiro dalla comunione ci sentiamo tiepidi aridi senza devozione andiamo lo stesso a comunicarci appunto chi ha freddo che deve avvicinarsi al fuoco e chi è malato che bisogna il medico mi sento degno di stare vicino al fuoco per scaldarmi ma se è freddo hai bisogno vai vicino il fuoco è fatto per quello per scaldare per cucinare per altre cose allora andiamo andiamo dal fuoco a scaldarci finalmente uno dice ma io non ho tempo capisco ma io devo lavorare tutto il giorno un momento aperto mille affalme mille preoccupazioni non posso e questo è proprio basta dire la verità e questa è la scusa dei poltroni intrascurati dei disamorati dei dio dell'anima propria perché il tempo si trova per tutto se si vuole non si ha tempo per venire a comunicarsi ogni mattina ma una volta in settimana pur rivediamo e stavo al tempo e tanto per i passatempi per le gite per le osterie per le chiacchiere inutili vogliamo chiedere che certamente vogliamo credere che ci sono molte occupazioni molti affari sì ma l'affare di salvarsi l'anima non è il primo il massimo di tutti gli altri qui de prodest a che giova se anche guadagnerai il mondo intero puoi perdere la tua anima mi dice signore che tu stai occupazione cosa mi porto tu stai occupazione qua cosa porto porto sull'amore a Dio e l'amore al prossimo la carità se no siamo giudicati sull'amore non sull'occupazione che ho fatto eccetera eccetera qui mi prima l'anima poi tutto quanto il resto dunque come vedete le principali difficoltà che si mettono in campo dai cristiani per conestare in qualche modo lo sistema di accostarsi la comunione di accostarsi meno che possa non poi ci sono ancora un argomento serio non hanno quindi alcun valore i veri motivi invece perché in molti se ne stanno lontani questa mensa divina sono altri potremmo ecco tranquillamente no e quali sono non si va alla comunione perché c'è poca fede una parte e molta ignoranza in ordine di bisacramento la santissima cristia dall'altra padre più diceva se si comprendesse il vero della santa messa ci vorrebbero i carabinieri dirigere il traffico perché andarebbero tutti se si comprendesse il vero della santa messa c'errebbe un affollamento questo non si comprende non si va alla comunione perché non si ha il coraggio di affrontare e demandare se stessi è un gran lavoro durato la vita un lavoro ascetico di purificazione non si va alla comunione finalmente beh si ha paura delle derisioni del mondo magari perché gli altri vengono a fare la comunione eccetera rispetto umano e questo è il modo di rispondere all'amore infinito di Gesù ai suoi desideri ai suoi inviti per vedere nel tempo stesso bene la nostra anima no mettiamoci in testa che per vivere da cristiani non basta pregare non basta sentire la messa non basta citare la rosaria non basta aggiornare bisogna anche fare la comunione senza aria e senza pane non si vive senza sole si muove di tristezza e di freddo e senza comunione muove la fede la preghiera la purezza l'umiltà e la vita cristiana concludiamo con due esempi Sant'Omaso Moro primo ministro della re di Inghilterra scomunicava infallibilmente ogni giorno e una volta un amico incredulo che si meravigliava come mai nonostante tante preoccupazioni politica il primo ministro del re trovasse il tempo di fare come giornaliera risposta voi disse mi allegate anzi la ragione per cui devo comunicarmi se ho tanti affari a disimpegnare ho bisogno di grandi lumi di grandi aiuti per operare sempre meglio e da chi potrà vedi se non è Gesù Cristo proprio contrario proprio perché ho tanti impegni ho bisogno di tanta grazia e Garzia Moreno sul sesso se beato è morto in un certo di santità presidente della Repubblica dell'Ecuador è stato ucciso dai massoni ha consacrato il sacro cuore all'Ecuador con questi governanti che dovremmo avere che preghiamo ma che il Signore ci mandi perché allora serve tutta altra cosa vabbè lui si accostava quasi ogni giorno perché desiderio però non siamo giudici però quasi ogni giorno si accostava la Santa Comunione infatti aveva consacato la Repubblica il Sacro Cuore di Gesù e questo non gli hanno non gli hanno fatta pagare fu appunto per un venerdì del mese però non a caso dedicato al Sacro Cuore a chi uscì dalla cattedrale di Chito in Ecuador dopo aver fatto la Santa Comunione cadde pugnalato con un siccato della masoneria esclamando tuttavia Dio non muore aveva anche detto riguardo il corpo non voglio che cambiano a morire anche loro per me io sono nelle mani di Dio quindi aveva anche detto girava senza guarda del corpo uscita dalla messa stato pugnalato da un siccato della masoneria però Dio non muore e quindi teniamo in mente questi giusti esempi ecco non basta comunicarsi a Pasqua andiamo più volte a banche che Dio ci prepara comunichiamoci spesso saremo forti potremmo essere grandi potremmo essere anche santi e questo lo affidiamo alla Madonna concludiamo sempre con qualche esempio il carceriere di Gesù sacramentato il carceriere è l'individuo incaricato di sovegliare i prigionieri tra le mie chiusi a chiave impedire che comunicano a parole o a segni con il pubblico ok ebbene fa pena dirlo ma è verità storica il carceriere di Gesù sacramentato fu un vescovo francese condannato dalla chiesa nel 1600 che formò il cosiddetto jansenismo biscovo jansen quel disgraziato fondandosi sul più odioso rigorismo allontanò i fedeli della comunione perché diceva degli essendo essa pane degli angeli bisogna andarvi con disposizioni angeliche così che neppure una volta in tutta la vita rigorosamente parlando cristiano dovrebbe comunicarsi purtroppo i fedeli abboccarono un diabolico tentativo Gesù rimase chiuso nel suo tabernacolo la comunione si fece una verità e il jansenismo non è morto ancora e vive per di più in anime buone in cristiani praticanti che ogni mattina vanno magari alla santa messa starendosi dalla comunione limitando solo la pasqua affisce nella storta idea che per comunicarsi bisogna sempre prima confessarsi purtroppo ecco è così diciamo che non è così la condizione basta non essere in peccato mortale quindi essere in grazia di Dio sapere che si fa ricerca con le migliori disposizioni possibili che avevano il momento ad essere di giorni da almeno un'ora se credeste bella questa anche tutti questi esempi diciamo apposta perché ci stivano un po' ti stuzzi non ci provocano anche un professore miscredente chiedeva un giorno da alcuni studenti cattolici ma credete voi davvero nell'eucaristia si professore risposero credete proprio sinceramente che quel pane rinnovi la vita dell'anima e risposta affermativa soggiunse no non può essere voi non ci credete perché se ci credeste vi comunichereste tutti i giorni il professore diceva bene se ci fosse una fede viva ci sentirebbe quotidianamente il bisogno del pane eucaristico una comunione in più anche questa l'antivigilia di una festa il celbe padre Lacordaire direttore allora di un collegio rifondato era pregato insistentemente di fermarsi a Parigi per un affare molto importante il lustro oratore rispose mi spiace ma non posso assolutamente perché per la mia assenza resterebbero senza confessione parecchi dei miei ragazzi che si preparano alla festa e giunse con aria grave non si può calcolare l'effetto benefico di una comunione di più della vita di un'anima di una comunione in più non si può ancora l'effetto benefico di una comunione in più della vita di un'anima e lasciò l'affare importante e fece più di 200 leghe per non privare i suoi figli e la comunità di confessarsi e comunicarsi parola che ha un significato profondo non si può calcolare l'effetto benefico di una comunione di più non sa bene il demonio questo effetto perciò fa tutti gli sforzi per lontanare le anime della sacra mensa la cura del sole la cura del sole è chiamata dai medici elioterapia ed è una cura molto efficace contro tutte le malattie causate da microbi i microbi i patogeni sono sparsi dappertutto nell'aria nell'acqua nel terreno sono tanto piccoli che non trepassano a millesima parte di millimetro così che un microbo di fronte a millimetro farebbe la figura di un uomo di fronte a una montagna di 2000 metri fu calcolato che un solo microbo nel periodo di 24 ore date le opportune condizioni di ambiente può dar luogo a 16 milioni di microbi e in 72 ore può produrre 71 miliardi il sole dunque dicono i medici avrebbe avuto di far morire questi microbi dannosi che vogliono divorare le nostre carni ahimè anche l'anima nostra è circondata da microbi passioni vizi capricci cattive abitudini tentazioni alettamenti diabolici cattivi esempi scandali eccetera eccetera una moltitudine smisurate di microbi dannosissimi che minacciano la salvezza dell'anima come guarire come difendersi la cura del sole per l'anima e il sole eucaristico la santa comunione o quanta salute avrebbe il nostro spirito fame divina episodio della guerra europea una figura degna di stare accanto quella di giuse borse di star acce eccetera fu il capitano professor guido negri di este di cui così parla il caperano militare del settimo reggimento alpini del battaglione piave del capitano negri vi ho solo dito parlare ne fece la conoscenza una delle nostre più avanzate posizioni un giovedì sa ricevete da lui un biglietto così concepito il caperano che parla per domani venerdì alle ore tre pomeridiane vengo da lei a fare la santa comunione celebrata la messa preparai una piccola scusate preparai una particola consacrata la posi nel rude tabernacolo fatto di sassi sotto la mia tenda e così poteva fare allora stabilita ecco il capitano tutto trafelato da me per ricevere il signore spero gli dico che non avrà mica voluto rimanere a digiuno fino a quest'ora sì sono a digiuno mi ha risposto ma la santa comunione basta da sé sola per saziare la mia fame e ricevete la santa comunione con la devozione di un angelo ho saputo continua il cappellano che aveva vegliato tutta la notte con i suoi soldati tutta la mattina aveva lavorato e rafforzato le trincee e per venire da me dovete camminare per picchi e per rocce scoscese per un paio d'ore fame divina impariamo dai cinesi un missionario della Cina fa questo edificante racconto fin tra il periodo del mattino il mio amico parlo della missione e io cominciamo contemporaneamente la celebrazione della santa messa una volta non c'era la concelebrazione no quindi c'erano tanti altari cappella principale altari principali e cappelle laterali il sacerdote celebrava anche due o tre più messe nelle varie cappelle anche contemporanei perché ogni sacerdote celebrava la sua santa messa ecco quando dopo l'agnus day vedi tutto il popolo muoversi verso i banchi della comunione compresi perché mi avesse domandato se ero svelto a distribuire la santa eucaristia se svelto a distribuire la santa comunione che domanda no lunga funzione infatti ma veramente edificante primi più piccoli graziosissimi con rocchioni d'angelo le mani giunte bisogna che si mettono in piedi per non sparire sotto la tovaglia e la loro bocca è così piccola perché inginocchiati la loro bocca era in ginocchio sempre prima una comunione mi sembra ripristinarla vabbè la loro bocca è così piccola che l'ospite divino dopo essersi già fatto tanto piccino per il loro amore appena può entrare per la minuscola apertura poi vengono i più grandicelli e i maestri di scuola la fede la rivarenza traspariscono dai visi ineffabilmente raccolti infine la folla degli uomini un po' disordinata ma devota e buona vogliono comunicarsi subito perché il sole sale e urgono i lavori intanto il paro ha comunicato le ragazze e le donne ora si può dire che tutto il villaggio ha preso il suo cibo sopranaturale quale conforto dopo questa gran pioggia di manna celeste di salire all'altare stanco il braccio arida la bocca aveva augurato a questi poverini centinaia di volte una vita che non finisce cosa si diceva corpo stovani nostri esocristi costovani anima tua vita eterna ame corpo di Gesù Cristo quindi la tua anima per la vita eterna ame quindi ripete centinaia di volte insomma dopo il ringraziamento non potete alternevi da manifestare il curato la mia ammirazione fecevi con un sorrisetto e così tutti i giorni l'eucaristia a fancaicata il paese il villaggio e il pane quotidiano quindi tutti i giorni così o divenisse anche il pane quotidiano di tutti i giovani il pane di casa nostra ultimo racconto edificante erano i primi giorni di febbraio del terribilano 1871 e un giovane soldato breton e sta per morire in ospedale di Ginevra il padre andò a visitarlo vedendolo il giovane si alzò si guangia e l'abbracciò lungamente ah adesso posso morire no tu non morrai figlio mio tua madre e tua sorella ti aspetto laggiù e i tuoi fratelli puri torneranno ti comprarò di buoni cibi li mangerai guarirai ah padre mio non ho più fame dicendo queste parole il povero ammalato ricadde spossato sul suo lettuccio il disegraziato padre si sentiva soccombre dal dolore aver fatto tante fatiche in quel penoso viaggio per non importare che un cadavere tutto da un tratto gli passò per la mente un'idea con mano febbrile frugò nel suo sacco da viaggio ne tirò fuori un pezzo di pane nero seco ormai che aveva portato con sé dalla Bretagna tieni gli disse è il pane di casa nostra l'ha fatto tua madre a queste parole il soldato si rialza il suo occhio smorto si rialima datemi questo pane il pane di casa nostra ho fame ne divoro un pezzetto poi aggiungendo le mani ancora ancora padre mio è tanto buono il pane di casa nostra è tanto buono il nostro pane è il pane di casa nostra oh carissimi non è la Santissima l'Eucaristia perché non desiderarlo perché non prenderlo spesso e volentieri che la Maria Santissima ha l'Eucaristia che ci aumenti il desiderio il fervo della Santa non solo il desiderio ma anche di poterla fare bene che sia fortuosa per le nostre anime gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen con il suo Dio di mio figlio e benedica la Regia Maria in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Ave Ave Maria e l'Eucaristia